Addio sul campo a Tommaso Maestrelli. Poi Inter-Lazio, una classica qualche anno fa, oggi una partita di normale amministrazione. L'Inter ha un avvio felice, cogliendo subito un palo con Anastasi. Sembra un'Inter diversa, più tonica del solito, ma Merlo dopo questo tiro si esaurisce e chi appella non lo ripresenterà nella ripresa. Promesse mancate quelle formulate dall'Inter nella prima parte, mentre la Lazio, piano piano, cerca concentrazione e schemi. Ecco una conclusione di Garlaschelli. Felice e Pulici, come sempre, ritrova a Milano, lui è di qui, la vena migliore. Eccolo prontissimo su una rovesciata di testa di Anastasi. Prima della fine del tempo, ancora un'iniziativa della Lazio, controllata senza difficoltà da Bordogno. Della ripresa da raccontare soltanto i gol, quello splendido di Marini, scopertosi tiratore nel derby di domenica scorsa, Marini concede oggi il bis. Ma anche Giordano è il derby winner di sette giorni fa. Oggi la prudezza serve alla Lazio per ottenere quanto meritava. Grazie a tutti.